Ciao a tutti e bentornati sul canale e benvenuti sul canale se è la prima volta che passate di qui. Come vi avevo promesso, oggi un video recensione di prodotti di skin care coreana. Allora vi racconto un po', il giorno del mio compleanno, il 26 maggio, sono stata contattata da una referente di Stilevana che è un sito, un e-commerce asiatico che vende prodotti di skin care coreana e tantissimi, tantissimi marchi che mi proponeva una collaborazione, possiamo chiamarla così. Loro mi avrebbero inviato dei prodotti totalmente gratuiti e io avrei potuto provarli e dire il mio parere in maniera onesta. Questa cosa mi è stata scritta ed è la cosa che mi è piaciuta di più. In maniera onesta, quindi quello che io veramente penso di questi prodotti. E così, anche se un po' preoccupata ma anche emozionata perché il mio canale non ha dei numeri per fare delle collaborazioni, mi è piaciuta questa cosa, ne sono stata veramente molto onorata ed entusiasta ed ho accettato perché avevo già acquistato dei prodotti sul sito di Stilevana che non vi ho ancora mostrato ma che vi mostrerò perché sono arrivati in concomitanza sia quelli che avevo ordinato sia quelli che mi hanno omaggiato loro e quindi ho voluto comunque provare per testare quelli che mi avevano inviato. Cosa ho fatto? Ho praticamente interrotto la mia skin care con tutti i prodotti che stavo utilizzando per poter provare questi prodotti. Quindi io li ho provati ininterrottamente mattina e sera per quasi due settimane perché mi sembrava corretto poter dire la mia opinione in maniera più precisa possibile anche se ovviamente io sono soltanto una consumatrice e quindi vi posso dire l'effetto che hanno fatto sulla mia pelle e come mi sono trovata. Allora, vi posso già dire che i prodotti sono ottimi, ottimi, ottimi dal primo all'ultimo che ho provato, non perché me li hanno mandati perché potrei anche dirvi magari quello che mi è piaciuto di meno ma comunque la valutazione parte da un 7 in su fino al 10 e l'ode col bacio in fronte, ci sono due prodotti che mi hanno letteralmente conquistato mi stanno piacendo veramente veramente tantissimo. In più Stilevana ma lo saprete sicuramente perché non sono sicuramente l'unica youtuber che collabora con loro sapete che offre uno sconto al nostro canale e poi ve lo metterò sia in sovraimpressione se riesco ma sicuramente vi metto tutte le informazioni ai link dei prodotti che mi hanno inviato e lo sconto che ci hanno concesso che è inf10eli ma poi ve lo lascio qua sotto così se lo vorrete utilizzare lo potrete utilizzare che offre uno sconto del 10% su tutti i prodotti che trovate sul sito e se superate, aspettate che me lo sono scritto, vabbè qui dice 58 dollari quindi più o meno 50, non so neanche più cos'è il dollaro, vabbè dipende comunque sui 50, sui 50 euro nostri, 48 euro 50 nostri lo sconto passerà dal 10 al 15% come consumatrice vi dico anche che se vi iscrivete al canale voi avete, non ricordo più se il 10% di sconto all'iscrizione o di, se il 10% di sconto all'iscrizione e poi quando entrate nel sito guardate bene attentamente ci sono sempre degli sconti sono in alto sulla barra e io quando ho fatto l'acquisto ho usufruito di uno sconto di una youtuber perché non ero ancora un influencer diciamo così e quindi non potevo usufruire del mio sconto ma mi sembrava comunque carino utilizzare lo sconto di una unica in modo che ci fosse traccia che appunto avesse acquistato con il suo sconto e ho aggiunto il mio 10% di benvenuto nel sito e c'era anche un altro sconto in quel periodo lì quindi vi devo dire che ho comprato parecchio e con uno sconto, ho ricevuto uno sconto veramente veramente vantaggioso in più quello che vi voglio dire perché l'ho testato ci sono tantissimi siti asiatici che vendono prodotti di skin care coreana tutti ottimi, le marche sono famose, sono sempre le stesse ci sono sia siti italiani, siti europei, siti coreani, siti asiatici io però ho fatto il confronto con gli articoli che mi sono stati mandati in omaggio e la differenza che ho riscontrato con altri siti soprattutto con il sito che conosciamo tutti e che è molto famoso su un prodotto ho trovato quasi 7 ore di differenza se ci sono dei prodotti che vi piacciono e che vi interessano fate sempre un paragone con altri siti e secondo me al 99% troverete che questo sito è veramente molto molto conveniente ma vi faccio vedere ora i prodotti che mi hanno inviato e sono andata anche un po' a ricercarmi perché ero molto curiosa dopo i due libri che ho letto di skin care coreana dove appunto raccontavano che ogni marchio ha comunque alle sue spalle una storia più o meno romantica sono andata così anche a cercarmi il significato di ogni brand dei quali ho ricevuto i prodotti allora partiamo con il primo prodotto che mi hanno mandato e che è la crema idratante all'acido ialuronico aspettate che dove l'ho messa? eccola qua che è questa io li ho rimessi nelle confezioni per farvi vedere il packaging esterno poi vi faccio vedere perché ovviamente il prodotto è all'interno questa è ialuronic acid moist cream di isenfree e dietro, prima di raccontarvi come mi sono trovata vi racconto molto velocemente la storia di questo brand che mi ha veramente affascinato e che mi è piaciuto tantissimo e praticamente il marchio isn't free nasce da un blogger che comincia a scrivere di ingredienti cosmetici e di ingredienti naturali e comincia a fare delle ricerche sulle aziende cosmetiche dove lui dice che puntano molto di più al marketing alla presentazione degli articoli piuttosto che agli ingredienti all'inci di quello che è la formulazione dei prodotti nasce così isenfree che è un marchio basato su ottimi ingredienti ve la faccio breve cosa significa il marchio? come vedete i-s-n is-n is-n ok sapete che il mio inglese è sempre così ma perdonatemi significa is-land un'isola naturale pura e pulita e non contaminata dall'inquinamento e ovviamente la parte finale free is-n free free ok non tre ma free vuol dire albero e un albero forte che porta buoni frutti e cresce con i nostri consumatori questo è il significato di questo brand allora questa crema per me è stata una rivelazione è meravigliosa e adesso ve la faccio vedere allora si presenta appunto in un tubo di 100 ml e la proprietà è molto ricca di acido ialuronico è una crema sia da giorno che da sera ce la potete mettere sia la mattina che alla sera prima di andare a letto cruently free e la sua caratteristica dice che va a curare la secchezza l'idratazione l'opacità rende più luminosa la pelle ed è adatta ad ogni tipo di pelle allora io vedendola così perché adesso ve la faccio vedere che è abbastanza corposa quando voi la stendete ero un po' preoccupata perché quindi la pelle io mi sta grassa pensavo mi andasse a donare ancora più lucidità io questa la metto guardate in due secondi si spalma vedete dona cioè è meravigliosa cioè questo se potessi dire insieme a un altro è il prodotto che mi è piaciuto di più ma da dieci l'ode con un bacio in fronte è totalmente priva di profumo lascia la pelle idratata liscia come se voi stesse toccando il culetto di un bambino quella pelle morbidissima compatta mantiene l'idratazione tutto il giorno fino a sera e io ho notato veramente che riduce la quantità di sebo prodotta dalla mia pelle che è una pelle ripeto mista grassa soprattutto in queste due settimane di caldo veramente pazzesco perché ogni anno che c'è caldo mi sembra che ce ne sia sempre di più anche quando non mi andavo a truccare come oggi oggi non sono assolutamente truccata perché davvero ieri è stata una giornata assolutamente da incubo e quindi oggi ho pensato di non truccarmi perché se era come ieri mi sentivo persino male la pelle rimane morbida idratata e più tonica più più uniforme per me è meravigliosa 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 davvero una crema che sicuramente andrò a ricomprare perché mi è piaciuta mi è piaciuta tantissimo adesso vediamo se mi sono segnata qualcosa contiene allora contiene 5 tipi di acido ialuronico costituito da molecole basse medie e alte in modo da avere più diciamo riempire con l'idratazione i vari strati di pelle cattura l'umidità e mantiene la pelle datata per tantissime ore ed effettivamente è così è una crema secondo me spaziale veramente veramente meravigliosa io mi sono trovata benissimo questa poi l'andavo a mettere i primi 2-3 giorni quando non faceva caldissimo poi mettevo la protezione solare e facevo la mia base per il trucco ma ho notato la differenza sulla proprio sulla elasticità della pelle sull'idratazione sul renderlo più polposa più tonica meraviglioso veramente una crema che nonostante la mia pelle mi sta grassa ed ero un po' preoccupata a usarla perché guardate rimane luminosissima ma non è assolutamente unta in una piccica stupenda veramente veramente bellissima poi il secondo prodotto che mi hanno mandato questo ho messo passi il secondo prodotto che mi hanno inviato è stato questo kit alte verde green tea special kit allora mi è piaciuta tantissimo l'idea di questi kit in mini sites perché come vi ho sempre detto ad un prezzo veramente irrisorio adesso non vorrei dirvi una stupidata perché purtroppo i prezzi non me li sono segnati ma poi ve li metterò nei link non vorrei dire se costa sui 7 8 euro ci sono 4 prodotti io sono due settimane che li sto utilizzando e ne ho ancora più di metà quindi perfetti da portare in viaggio ed è quello che farò io adesso quando andrò a trieste perfetti da portare in viaggio perfetti per fare un delizioso regalo ma perfetti anche perché ci danno la possibilità di provare questi prodotti senza comprare le full size vediamo che cosa c'è all'interno di questo kit allora è anche qua con tutti i miei appunti ragazzi scusatemi ma io memoria non riesco più a imparare nulla non lo facevo quando andavo al liceo e facevo molto fatica ad imparare a memoria le cose adesso che sono diventata vecchia è ancora è ancora peggio allora vediamo se riesco a trovare Santa Peppina dove l'ho messo eccoci di ritorno scusatemi ma sono andate in agitazione avevo paura di non trovare più tutte le informazioni allora questo appunto è un kit al tè verde quando la ragazza che mi ha contattato che si chiama Shrada penso si dica così è stata gentilissima mi ha chiesto quanti anni avessi com'era la mia pelle e quali erano le caratteristiche che io ricercavo in una skin care e io gli ho detto appunto che mi aiutasse a tenere sotto controllo il sebo durante la giornata e che comunque mi regalasse una luminosità e idratazione perché nonostante la mia pelle sia mista grassa mi sono resa conto in tutti questi mesi in cui mi sono appunto applicata nel fare la skin care coreana di mi sono accorta che per me l'idratazione della pelle è fondamentale e questo kit è veramente veramente poderoso allora all'inizio sono rimasta un attimo confusa perché non sapevo come che step utilizzare e io a questo punto ho ragionato dico questa è skin care coreana ragioniamo come mi hanno insegnato che si parte dal prodotto che ha una consistenza un po' più morbida fino ad arrivare a quello che ha la consistenza più più densa e io sono partita innanzitutto con questo toner e allora ha un profumo delicatissimo di tè verde un profumo erbaccio tutta questa linea ma veramente molto dedicata quando lo applicate sulla pelle quasi non lo sentite ma molto molto piacevole il toner come vedete è abbastanza liquido io appunto lo scaldo un attimo con le mani e poi me lo applico ecco tutti questi prodotti io li ho applicati anche sul collo e sul decolleté e qui proprio con l'applicazione di questi prodotti io mi sono accorta che ho migliorato la tonicità della mia pelle oltre che sul viso il profumo è delizioso dopo il tonico applicavo la lotion perché il siero l'ho tenuto come penultimo step dopo la crema allora se vi posso dire l'unica cosa l'unica pecca che non mi è piaciuta più di tanto è stato il pack delle mini sides perché facevo veramente molta fatica a far scendere i prodotti quelli un po' più densini vedete qua non scende proprio benissimo questa è la lotion che io l'ho applicata proprio come se fosse una essence cioè io l'ho messa al posto della essence anche qua scaldata si assorbe subito mamma mia è piacevolissima piacevolissima veramente molto molto fresco si assorbe rapidamente e la mia pelle rimaneva veramente molto molto idratata ma non unta attenzione idratata non vuol dire che la pelle vi rimane unta grassa assolutamente assolutamente no in tutti questi quattro prodotti ci sono i semi del tè verde che sono spremuti regalano umidità alla pelle come se trattenesse cioè la descrizione qui dice questa crema e tutti la lozione e il tonico regalano idratazione alla pelle con i semi di tè verde appena spremuto per trattenere la rugiada di lunga durata cioè per trattenere comunque l'idratazione della nostra pelle quello che che è l'idratazione della nostra pelle normale come tipologia di trattamento appunto dice che è indicata per le pelli normali e per le pelli miste e grasse e va così a svolgere un'azione benifica per la secchezza e l'idratazione della pelle questo è il fantastico siero bellissimo anche qua guardate ecco questo non fa fatica a scendere ma ne bastano veramente ecco ne bastano due goccine è trasparente il profumo vi regala davvero una coccola meravigliosa solo non tolgo gli occhiali altrimenti non vedo assolutamente niente ma è meraviglioso non è assolutamente grasso e in queste giornate di calura pazzesca mi ha regalato proprio un momento di freschezza dopo il siero andavo ad applicare la mia crema una crema molto morbida sbaglio sempre eccola lì una crema molto molto morbida molto idratante quando voi avete messo sul vostro viso tutti questi quattro ingredienti alla fine quando arrivate allo step della crema avete una sensazione di setosità cioè la pelle è setosa setosa liscia idratata ecco penso che appunto Shrada ripeto non so se si ecco Shrada abbia proprio colpito nel segno mandandomi questi prodotti sono per me adattissimi alla mia pelle e mi sono piaciuti mi sono piaciuti davvero davvero tantissimo dopo questo kit questo io lo usavo principalmente alla sera perché avevo quasi tutto lo step della mia della mia skin care a parte la detersione con il burro ma e questa è una cosa favolosa allora questo è il marchio conosciutissimo beauty of jason ed è un gel lavante una schiuma lavante i due prodotti che mi sono piaciuti di più sono stati veramente questi due allora io vi dico che cosa mi ha regalato questo gel detergente mi ha regalato la pelle di afana io sia alla mattina che alla sera quando andavo a detergermi il viso dopo essermelo risciacquato e tamponato avevo la faccia bianca ve lo dico cadaverica ma per il mio tono di pelle cioè era schiarita non si vedeva più nessun rossore della della cuperose o del caldo della calura dell'afa io non ho mai avuto un effetto così schiarente da un prodotto ora questo non me lo spalmo sulla mano perché però lo vedete vabbè facciamo così ve lo faccio vedere è proprio io ne metto pochissimo qui dice di usarne praticamente la quantità come un chicco di riso ed è così perché poi fa tantissima schiuma morbida leggermente profumata ma non tantissimo e contiene l'estratto di fagioli mung che crea un effetto sinergico con l'acqua di prugna un ingrediente naturale a base di erbe aiuta a rimuovere le cellule le cellule morte della pelle e del sebo è un detergente leggero geloso ipoallergenico e leggermente acido che non secca la pelle e aiuta a trattenere l'umidità è adatto a tutti i tipi di pelle e io l'ho trovato miracoloso per me è miracoloso favoloso 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 anche questo diecelote con bacio in fronte ma vediamo ah non vi ho detto la storia di beauty beauty of jason allora beauty of jason l'avevo trovato qua il marchio beauty of jason mantiene i canoli di un'estetica naturale e perfetta che arriva sulla nostra pelle come un leggero battito d'ali cioè è pura poesia veramente e beauty of jason ha reinterpretato nei suoi prodotti la saggezza delle donne della dinastia jason coreana che erano contrarie all'apparire troppo truccate e imbellettate ma curavano la propria pelle per renderla più chiara e priva di impurità e così non avevano nessuna necessità di coprire le imperfezioni con il trucco e credetemi cioè per me è veramente così io non ho mai trovato un detergente che schiarisca la pelle come questo ottimo ottimo veramente il significato invece di Innisfree che è la marca di questo kit è un'azienda fondata nell'anno 2000 e appartiene al gigante cosmetico coreano che è famosissimo che si chiama Amore Pacific si dedica a un pubblico molto molto giovane con dei prezzi estremamente accessibili e il logo di Innisfree che è un vaso con una pianta contenente delle foglie e dei fiori a forma di mortaio e a forma di contenitore di cosmetico riciclato il nome Innisfree deriva da un poema chiamato The Lake Highland of Innisfree che si riferisce ad una piccola e disabitata isola dell'Irlanda e c'è un'isola al centro della storytelling di Innisfree la bucolica isola vulcanica di Jeju nel sud della Corea dove la natura e la bellezza coesistono in armonia in uno stile di vita ecologico che preserva l'equilibrio tra uomo e natura ecco il significato secondo me di questi brand è totalmente poetico veramente veramente bellissimo altro prodotto meraviglioso è questo tonico ve lo leggo Skin 1004 perché io in inglese non ve lo so dire perdonate la mia ignoranza ed è questo tonico esfoliante che già solo a guardarlo a me ricorda il mare mi ricorda mi dà una sensazione di freschezza di leggerezza e questo tonico è un tonico esfoliante un tonico esfoliante a base di centella asiatica che contiene alfa idrossi acidi e lipoidrossi acidi che io non conoscevo e sono andata a leggere i lipoidrossi acidi vengono spesso sostituiscono spesso i beta idrossi acidi perché sono leggermente più delicati e vengono proprio utilizzati per le pelli sensibili e le pelli grasse io mi sono trovata benissimo un tonico leggero allora qua sembra che io non l'abbia usato ma io l'ho utilizzato esattamente per due settimane tutte le mattine ne mettevo proprio qualche goccia non lo uso con il dischetto perché non mi va di sprecarlo come al solito lo spalmo sulla mano e poi me lo metto un tonico rinfrescante che aiuta a mantenere l'equilibrio della pelle per tutta la giornata esfoliante ma in maniera veramente molto leggera non mi ha irritato non mi ha dato nessun tipo di problema con una profumazione molto delicata molto acquatica veramente veramente stupendo 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 e aiuta anche a regolare la la grana della pelle e con questa esfoliazione aiuta a mantenere la nostra pelle ad essere molto molto più pulita e mantenere un colorito uniforme perché chiaramente le cellule morte se ne vanno e la nostra pelle rimane sicuramente più bella davvero un tonico portentoso poi ho ricevuto questa Daily Go To Sunscreen SPF 50 più più questa è della marca Purito una marca famosissima che nasce nel 2013 con una filosofia cosmetica che sta già nel nome Purito è facilmente riconoscibile è Purify che deriva da un carattere inglese che significa Purify Purificazione no Pulito e Tu Suolo e la missione di questo brand è quella di utilizzare ingredienti purificanti da inserire nei prodotti puliti e sicuri che vadano a rafforzare e a proteggere la nostra pelle Purito si rivolge quindi a madre natura e alla purezza dei suoi elementi per offrire dei prodotti semplici puri ed efficaci questa crema lo sappiamo benissimo tutti che le creme SPF a protezione solare per il viso coreane non hanno uguali allora questa è la consistenza non c'è scia bianca non c'è assolutamente nulla quando voi la massaggiate sul viso si assorbe subito ed è anche perfetta come base per il trucco una crema davvero meravigliosa che adesso contiene adesso ve lo dico allora la nuova protezione solare ibrido ibrida purito e con dei filtri chimici e dei filtri fisici per fornire una protezione verso i raggi UVA e UVB i raggi UVA ecco l'altra volta avevo fatto confusione adesso sono andata a ricercarmi bene i raggi UVA sono i raggi presenti nella luce solare e rappresentano il 95% delle radiazioni UV hanno una lunghezza d'onda elevata e passano anche attraverso il cielo nuvoloso contribuiscono in maniera molto minore non si dice in maniera minore alla bronzatura e alla comparsa di eritemi ma penetrano negli strati più profondi della nostra epidermine quindi sono veramente pericolosi mentre i raggi UVB hanno una lunghezza d'onda molto più corta rispetto agli UVA agiscono principalmente in superficie sono quelli che ci fanno venire gli arrossamenti e le scottature e stimolano poi la produzione di melanina favoriscono una bronzatura chiaramente più duratura ma essendo più potenti sono anche molto molto più pericolosi e questa crema protegge da entrambi i raggi io cioè sembra quasi una crema opacizzante anche se non lascia un effetto matte sulla pelle la sensazione che avete sulla pelle è quella di una crema totalmente assorbita che regala morbidezza ma che regala anche quasi un effetto matte alla pelle quando voi la stendete mi è piaciuta tantissimo davvero un ottimo prodotto ultimo prodotto che mi è stato inviato ma che qui se ci fosse un voto maggiore di 10 lode con il braccio in fronte questo lo prenderebbe di sicuro è questo olio che io ho utilizzato come fase finale della mia skin care notturna serale perché comunque è un olio e quindi va ad idratare la pelle a nutrire la pelle lascia un effetto ovviamente molto più lucido di una crema ma ragazzi qui siamo veramente a un prodotto d'eccellenza a mio parere allora il brand è Haru Haru Wonder Haru Haru significa tutti i giorni il brand coreano propone dei prodotti altamente efficaci per un uso quotidiano Haru è un eroe fantomatico che combatte nella vita di tutti i giorni contro i mostri che creano dei problemi alla nostra pelle Skin Hero Haru cerca un trattamento della pelle semplice veloce ed efficace affidandosi alla moderna tecnologia ultra deep technology per raggiungere i suoi obiettivi è molto carina anche la descrizione qualunque cosa che tocca la pelle la vostra pelle deve essere incontaminata questa è la loro convinzione cercare la purezza abbiamo intrapreso un lungo viaggio alla ricerca della natura incontaminata e siamo arrivati alla natura incontaminata nel Madagascar l'isola più antica della terra per ritrovare la natura più antica e incontaminata la foglia della vita siamo stati in grado di trovare la foglia curativa e protettiva della vita centella asiatica l'ingredente grezzo più puro la centella asiatica in Madagascar è la più pulita e la più pura che altrove lo consegniamo a te abbiamo cercato quindi di capire quanto sia preziosa la tua pelle e tutto ciò che tocca la tua pelle deve essere puro per me le descrizioni di questi brand cioè il significato che ogni casa ogni brand coreano ha alle spalle è pura poesia allora questo è un olio che io ho utilizzato tutte tutte le sere ma ne bastano tre gocce per la mia pelle ne bastano tre gocce il profumo il profumo per me è un profumo da spa è meraviglioso allora ha un fondo di lavanda lo si sente abbastanza e ha anche un sentore erbacio cioè quando io lo mettevo chiudevo gli occhi scusatemi la la poesia perché poi a me piace anche immaginare quando mi metto quando uso dei prodotti mi sono ritrovata praticamente vicino a una cascata in un bosco molto verde e rigoglioso con questo profumo di piante di sottobosco di erba e la freschezza dell'acqua che scende davanti a me cioè mi sono fatta questa immagine vera o non vera questo è quello che a me ha dato a livello così di di immagine questo questo bellissimo olio facciale black rice facial oil allora è un olio leggero e miscelato che si assorbe rapidamente verissimo allora non aspettatevi la crema cioè la consistenza della crema di prima nel senso che non regala un effetto mat regala un effetto molto luminoso essendo comunque un olio è adatto per tutti i tipi di pelle e anche alle pelli miste e grasse che non amano le consistenze particolarmente ricche l'ingrediente chiave di questo di questo olio è l'orizza sativa che è il riso che ha le proprietà antiossidante olio di jojoba che è un antinfiammatorio olio di mandorle dolci che è perfetto per le nostre rughe e olio di semi di girasole che combatte l'acne ed è anche un antinfiammatorio l'olio di lavanda che è illuminante e riduce le rughe l'olio di lavanda alla profumazione si sente veramente tanto e secondo me è davvero un portento un portento è meraviglioso la formula di fermentazione è una formula unica che trasforma le materie prime in materie che si assorbano facilmente sulla sulla nostra pelle e io devo dire che questi due prodotti anzi direi che sono tre i prodotti che mi sono piaciuti più di tutti sono questi tre questo lo potrei mettere al primo posto questo a pari merito e al secondo posto poi arriva questa ma sono tutti dei prodotti meravigliosi io avevo già avuto l'occasione di provare dei prodotti coreani perché quando ho iniziato così questo cammino verso la fine di dicembre e inizio di gennaio leggendo appunto i libri di skin care coreana ero andata subito a cercare dei prodotti coreani e devo dire che hanno veramente una marcia una marcia in più hanno una marcia in più perché hanno al loro interno degli inci di tutto rispetto gli ingredienti sono tutti naturali non troviamo siliconi o comunque ingredienti dannosi hanno sulla mia pelle hanno avuto sulla mia pelle un davvero mi hanno regalato la pelle che volevo nonostante io abbia 52 anni non ho una pelle perfetta ho una pelle con una una leggera cuperose ho la pelle grassa utilizzando questi prodotti io mi sono accorta che la mia pelle è sicuramente migliorata migliorata di tanto è diventata comunque molto più elastica molto più idratata più luminosa con un aspetto radioso con una uniformità di colorito che prima non avevo e quindi sicuramente hanno fatto il loro il loro lavoro vi devo dire anche che i prodotti che ho utilizzato non sono tantissimi tanti però sono di marche coreane in questi 15 giorni dove io ho utilizzato questi prodotti la differenza l'ho notata l'ho notata veramente anche perché tenete conto che questo è un periodo abbastanza particolare per me essendo in pre-meno pausa e comunque con questi caldi con questi sbalzi di temperatura questi prodotti a me non hanno dato davvero nessun tipo di problema quindi spero di avervi dato così un'idea un po' più chiara di quello che può offrire questa è una minima parte di quello che può offrire il catalogo di Stilevana così vi consiglio di andare a curiosare di andare a guardare c'è anche il sito in lingua italiana che poi vi lascerò sotto con tutti i link di tutti i prodotti con lo sconto che è riservato a noi io così vi dico una possibilità di darla di provare magari comprando anche un mini kit dei mini kit da provare in modo che voi riuscite anche a farvi un'opinione dei prodotti perché come vi dico sempre non quello che va bene a me può andare bene a voi o a tutti ognuno ha la sua pelle la pelle è unica e quindi bisogna proprio sperimentare e provare comunque in ogni prodotto in ogni scheda ci sono le indicazioni del tipo di pelle se può andare bene per una pelle secca una pelle grassa una pelle mista quali sono gli ingredienti quindi il sito è veramente molto ben costruito e le schede che ci sono in ogni prodotto sono davvero molto molto ricche di informazioni fateci un giretto fateci un giretto e poi e poi vedete insomma se vi possono interessare perché no utilizzate lo sconto o il mio o quello di qualcun altro ci mancherebbe altro però io un girettino ce lo farei io vi ringrazio perché so che sono stata confusa ma sono anche davvero molto molto emozionata non mi è mai capitato di fare una recensione per dei prodotti che mi sono stati regalati e quindi mi perdonerete se ci sono state qualche imperfezione delle pause di silenzio adesso cercherò di tagliare montare e rimettere insieme il video ma ci tenevo a farlo adesso prima di andare via qualche giorno in modo che rimango nei tempi delle due settimane dall'arrivo dei prodotti e adesso mi sembrava giusto comunque darvi la mia opinione vi ringrazio vi abbraccio e niente fatemi sapere se conoscete già questi prodotti se li avete già provati come vi siete trovati io vi dico soltanto che per me sono meravigliosi veramente meravigliosi e ringrazio ancora Stella Evana per avermi dato questa opportunità di testare questi bellissimi prodotti grazie a presto e ci vediamo in un prossimo video grazie